Una grande emozione è quella che i fedeli di Piedimonte hanno provato per la riapertura della chiesa Ave Grazia Plena, da due anni e mezzo chiusa a seguito del sisma che colpì la città il 29 dicembre 2013. Due anni sono tanti, anni in cui i cittadini hanno sperato di dividerla nuovamente aperta, bella come non mai. Davvero tante le persone accorse per la riapertura, curiosi, soddisfatti, emozionati e ripagati per la lunga attesa. In questi anni la chiesa è stata sottoposta ad interventi di messa in sicurezza e di restauro affinché potesse accogliere i suoi instancabili fedeli in un senso di spiritualità e di sicurezza attraverso i fondi che furono stanziati. La folla di fedeli ha colto l'occasione per unirsi in preghiera ai piedi della Madonna, simbolo di questa chiesa che vanta una storia secolare con i suoi affreschi e la sua struttura architettonica. Oggi è un grande giorno per noi e per voi fedeli, ha espresso il Vescovo di Cerbo circondato dai tanti fedeli durante la celebrazione della Santa Messa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.